raga buongiorno a tutti quanti tutti voi che guardate il video benvenuti in questo video pazzo pazzo sono pazzo me l'avevate chiesto in 8 miliardi di milioni di cerni su instagram sì perché avevo fatto un box delle domande dove vi chiedevo che cosa o quale video strano volevate vede e uno di voi anzi vi faccio pure il nome il signor francesco mi ha detto jozzy perché non ci fai vedere cosa ti spunta tiktok ed oggi andremo a reagire ai miei per te su tiktok su tiktok siamo quasi 450 mila follower che cosa spunterà a una persona con 450 mila follower oggi lo scopriremo e con questo video diamo inizio a una nuova rubrica la rubrica dei video strani siamo partiti con omigol e continueremo con video del genere se avete dei consigli scrivetemelo sotto nei commenti ma adesso andiamo a vedere che cosa ci spunta su tiktok vado ad aprire tiktok da pc e vediamo che cosa ci esce vi ricordo che se volete un diretto contatto con me basta scrivermi su instagram e vi aspetto tutte le mattine in live su twitch dove vi saluto a tutti quanti andiamo ad aprire tiktok tra 3 2 1 a si presenta già così vediamo voi la conoscete sicuramente io c'ho paura cioè io non vorrei che cioè signori di youtube allora conosciamo tutti il soggetto e non vorrei che insomma mai iniziasse cioè non vannatemi è lei che se non sbaglio si chiama gerardo andiamo a vedere che cosa fa allora non faccio mai video di questo genere però questo outfit non chiedetemi il colore di niente cioè non chiedetemi belle le sca che belle scale e anche l'uovo di pasqua ovviamente devo andare a un concerto a buon concerto per questioni di soft ban chiamiamolo così noi andremo avanti stai vestita benissimo complimenti per il tuo vestito bianco e ditemi voi nei commenti di che colore è il vestito della signorina andiamo avanti sono giorni che su tiktok mi esce sempre lo stesso video ma tu regà è vero è vero regà ma basta sta storia basta sta storia voi l'avete vista questa storia lo scrippo ancora esce qualcosa che insomma basta ragazzi se questo io lo segnalo eh lo segnalo non mi toccare il capobranco dei paguri che tra l'altro mi ringrazio anche in un video ma comunque ci sta bene vestito così joker comunque che sono tutti questi voti degli outfit ragazzi cioè prima è arrivata la signora roberta voto 8 ma come minimo 10 ragazzi ma che gioco è voi lo conoscete questo un calzino no sembra io alle mie prime seghe eh cioè no volevo dire le mie prime ma che gioco è ma che cos'è ma voi lo conoscete questo gioco o sono troppo boomer esistono cose che non esistono no la povera scacchiera questi sono i miei non credo che sia molto sicuro cioè praticamente non serve l'acqua calda tu ti ci metti dentro con il termosifone fa tipo stile sottovuoto lì dentro devastante i tiktok quelli belli raga il mio tiktok non ha senso e giustamente ci esce la signorina roberta e ci esce anche giulia voto sedia da 1 a 10 perché io sto guardando solo quella ragazzi sto guardando solo la sedia mi arriva il mambolosco e mi stacca la testa ragazzi ma eeeh oh mi fa tipo paurissima ma che bocca c'ha oddio ci devo provare anche io non so il risultato però fa paura dopo quando riguarderò il video sicuramente non provatelo a casa questa tizia l'ho vista raga se giocate a capped lei è bravissima spruzza bene ragazzi se state cercando un dito al modico prezzo di 10 ragazzi ma è un genio ciao caro prendo queste cuffie originale samsung visto che si originale e ora un buon prezzo grazie ma tu ragazzi ma mi è venuta un'idea bellissima e se io facessi tipo nel negozio stesso se staccassi il biglietto probabilmente dopo questo video mi arresteranno ragazzi questi sono quelli che preferisco ho visto un sacco di reaction soprattutto non so se lo conoscete fieric che fa queste cose e a me nei per te mi bombardano di questi video vediamo belle ciabatte soprattutto il ditone condattami su instagram no è rotta la ram ma non ho capito ma che cosa deve fare con questa ram scusate signori mi scusi dove sta andando ma è una ram perché ragazzi non so se giocate a league of legend ma questo è un buon momento per iniziare a giocare la prima era catelyn la seconda era b e adesso dove scusa 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 youtube scusa tutorial lingua cioè ho paura a premere play ho veramente ma perché dico io perché perché oddio ragazzi ma è una combo bellissima ce devo provare pure io vi faccio un video su instagram dovevo provare con mia nonna uguale sono io a cavalcare lei o lei a cavalcare me lo decideremo nelle storie e come potevano mancare signori gli indiani no non credo sia un indiano allora c'è questo elemento che finisce fuori strada volutamente adesso come se ne uscirà da questa situazione esce dalla macchina ok ha tipo distrutto tutto scende giù ok come farà io chiamerei il carro attrezzi invece no lui che cosa si inventa scruta la macchina sale sopra tra l'altro belle scarpe apre cosa cos'è premuto il finestrino la roba del finestrino cosa fa si Hulk ragazzi siamo davanti a Hulk versione indiana si 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 ma se io non mi veniva no ragazzi questo è come tipo entrano i ladri in casa no clickbait è impossibile cioè io non riesco ad alzare un altro po' che il mouse e me vengono 10.000 herni a disco com'è possibile una cosa del genere esiste secondo voi è vero o falso cioè è una sorta di click impostato nella macchina con un solo tasto questo è il 3.000 siamo nel 3.000 ragazzi spero che il video vi sia piaciuto spero che io sia riuscito a strapparvi qualche risata se volete una seconda parte dei miei per te su tiktok scrivetemelo sotto nei commenti o su instagram tra l'altro vi ricordo che ho aperto un gruppo whatsapp per tutti gli abbonati del canale quindi se siete abbonati al mio canale e vi ricordo che con il twitch prime è gratis basta cliccare su abbonati e fare senza costi aggiuntivi contattate i miei moderatori su twitch che vi danno tutti i vantaggi noi ci vediamo in un prossimo video bella rega ciao